Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò della statua della Minerva di Pavia. Buona visione! La statua della Minerva è un simbolo della città di Pavia e fu realizzata dallo scultore Francesco Messina nel 1938. La Minerva, secondo la mitologia greca, era la dea della sapienza, della saggezza e della guerra. La dea di Pavia tiene la lancia con la punta rivolta verso il terreno a indicare l'eccellenza della cultura a discapito delle armi. Una scarabanzia degli studenti universitari vuole che prima di laurearsi non debbano assolutamente guardare la Minerva negli occhi. Pena la mancata conclusione degli studi. Spero vi sia piaciuto e mi raccomando iscrivetevi al canale al prossimo video Ciao!